Mattia La Tagliata farà parte ufficialmente del gruppo prima squadra della Virtus Franca Villa 2024-25. Il calciatore infatti tornerà a indossare la maglia bianca azzurra dove 5 mesi in prestito a Nardo, classe 2005. È un prodotto del settore giovanile, Pupillo di Montervino, che avrebbe voluto portarlo già lo scorso anno a Casarano. Ha debutato in prima squadra e da quest'estate ci giocherà con regolarità. Ha definito l'affare per Eneo Geonai, che sarà invece un giuglio offensivo a disposizione di Ginestra. Il Franca Villa già l'accordo anche con Nicola Pinto, Ala, in grado di giocare sia a destra che a sinistra. Il classe 2000 nelle ultime due stagioni è stato protagonista con il Martina, con cui ha realizzato 7 gol e 11 assist in 68 presenze complessive. Giovane e con ampi margini di crescita, potrebbe consacrarsi definitivamente alla nuova Redorena al momento. Comunque, un solo colpo ufficializzato dalla Virtus, ma diversi affari già bloccati e definiti, da quello che si è letto tra le righe nella conferenza stampa della scorsa settimana. E adesso la città freme dalla voglia di vedere come sta nascendo, da zero, la squadra che avrà il dovere di provare a tornare in C il prossimo anno.